Il Consiglio regionale ha confermato grande attenzione e sensibilità rispetto alle istanze del mondo agricolo e del settore vitivinicolo abruzzese. È quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine della seduta straordinaria che si è svolta ieri. Dopo un'ampia discussione l'Assemblea legislativa ha infatti approvato sia il documento presentato dal centrodestra che impegna la Giunta a farsi portavoce del mondo agricolo abruzzese in sede di Governo nazionale e in Europa sia quello dell'opposizione. Il Consiglio regionale ha così confermato attenzione e impegno a difendere uno dei fiori all'occhiello del tessuto economico e già nel mese di agosto era stata approvata una variazione di bilancio che stanziava 2 milioni e 500 mila euro per il 2023 e la stessa cifra per il 2024. Durante la seduta poi sono stati richiesti anche interventi strutturali per contrastare i danni derivanti dai cambiamenti climatici, iniziativa però tutt'altro che apprezzata dalla consigliera di Forza Italia Sara Marcozzi. Tali interventi sono stati chiesti dagli stessi colleghi che hanno boicottato l'istituzione della sesta commissione permanente da me proposta sul ciclo idrico integrato e la resilienza ai cambiamenti climatici, ha commentato la consigliera. I danni subiti dal comparto agricolo e vitivinicolo abruzzese sono stati straordinari e bisogna proseguire l'impegno nel reperire risorse aggiuntive cercando ulteriori disponibilità, ha proseguito la Marcozzi, la quale ha poi proposto l'istituzione di una commissione permanente che si occupi esclusivamente di acqua e resilienza ai cambiamenti climatici, così da attuare un piano programmatico chiaro superando la logica della rincorsa dell'emergenza.